Che bello iniziare! Mi piacciono questi video polemici. Ragazzi, questo video è diretto a tutti gli juventini che da questa mattina mi stanno fracassando i maroni su Caio e Giorgie. Perché? Ma io sono fatto così. So che con questo video scatenerò l'inferno, scatenerò il putiferio, una polemica incredibile, ma non me ne frega un cazzo, perché io sono fatto così, nessuno mi cambia, le mie idee sono coerente, io continuo a pensarla allo stesso modo. E adesso vi spiego il perché. Tre giorni fa, due giorni fa, è uscito il video mio, come tanti migliaia di altri youtuber l'hanno fatto, della frenata Caio e Giorgio e Juve, sappiamo che erano in discordia, chi diceva che scadeva nel 2023 il contratto, chi diceva che si poteva liberare subito. Io ho fatto il video dicendo, clamorosa frenata, ma non è detto che la Juve non lo prende. E questa mattina sembrerebbe che la Juve sia vicinissimo al giocatore. Allora, questo messaggio è per voi, visto che da stamattina continuate a scrivermi, eh va a fa' culo, tua bastardo, l'abbiamo preso, va a fa' culo. Allora, uno, di Caio Giorgio non me ne fotte un cazzo, perché secondo me è una pippa stratosferica. Caio Giorgio sarà il secondo Gabigol in Brasile, un fenomeno, e in Italia una pippa stratosferica. Due, secondo me Pato a 15 anni era il più forte di Caio Giorgio. Tre, scommettete che se lo prendete lo date in prestito, in giro da qualche parte, o gioca nella primavera? Volete scommettere? Volete scommettere? Con questo ho chiuso, ragazzi, perché da stamattina mi stanno massacrando. Abbiamo preso, hai visto, soprattutto su Instagram, hai detto ridevi, invece adesso... Non me ne frego un cazzo, io non sono... non è che mi sto preoccupando, mi sto sfasciando il cervello perché forse la Juve prende il giocatore. Secondo me sarà un altro Gabigol. Il tempo dirà la verità e comunque sempre forza diavolo, mi raccomando, mi raccomando, sempre forza diavolo!